Furto con la tecnica dell'abbraccio ancora una volta eseguito da una donna giovane e con modi gentili in pieno giorno nel quartiere di Fano 2 e ancora una volta purtroppo vittima una persona anziana. Una tecnica quella dell'abbraccio subdola e vile perché mira a cogliere di sorpresa la vittima che non si aspetta di certo una sconosciuta con un gesto simile d'improvviso ma mortifero perché quando la persona realizza che c'è qualcosa che non va è già troppo tardi la ladra si è già impossessata della colanina della catenina d'oro del portafogli se non dell'orologio nei casi più impegnativi. Sono le 11 del mattino pieno giorno e l'uomo un ultra ottantenne è stato avvicinato praticamente sotto casa con la solita tecnica una scusa banale. Niente ieri mattina Biobab è uscito di casa per andare a fare la spesa e una signora li si è avvicinata con la scusa di dire che aveva trovato un lavoro qua vicino se gli ha detto insomma che era tutta felice di aver trovato il lavoro l'ha abbracciato e nel giro di proprio un attimo gli ha preso la catenina e gliel'ha rubata praticamente lui si è accorto dopo essere andata a fare la spesa e tutto qua. Dentro la macchina si è intrufolato dentro la macchina? Sì esatto lui era già seduto in macchina lei lì si è proprio entrata dentro e l'ha abbracciato e gliel'ha portata via ma in un batter d'occhio proprio. Questo tipo di reato si inquadra nella tipologia del furto con destrezza quasi sempre ci dicono le casistiche nazionali praticato da donne spesso giovani con modi gentili ben vestite quasi insospettabili e con un complice che la tende invece poco lontano in auto per svignarsela il prima possibile. Sono ladre seriali che operano a qualsiasi ora del giorno e dovunque davanti a un supermercato per strada e quasi sempre ai danni di anziani ultra settantenni che avvicinano con le scuse più banali fingendo di essere un'amica di famiglia la lontana di chiedere un'indicazione o delle informazioni il tutto per arrivare a poca distanza dalla loro vittima e poterla stringere improvvisamente nell'abbraccio fatale lasciandole disorientate e purtroppo private del loro oggetto di valore. L'unica cosa che lasciano invece in chi lo subisce è l'amarezza e lo sconforto. Il babbo come l'ha presa? Insomma lì per lì non ci è rimasto molto bene poi per fortuna lui ha un buon carattere non è che se la prende tanto. Ecco comunque non è una piacevole esperienza? No per niente per niente per niente è più non tanto per il valore per il fatto che viene fregato così insomma dispiace ecco.